Allora, buonasera a tutti. Io sono Giuseppe Candido, sono il fratello di Concetta Candido. Concetta Candido chi è? E' quella donna che il 27 giugno del 2017, esasperata perché non riceveva gli arretrati naspi che sapeva le aspettavano e che per lei erano vitali, esasperata dopo aver più volte chiesto ragione dei ritardi che c'erano e credendo di aver risolto, trovando sul suo conto corrente una cifra decisamente irrisoria e non corrispondente a quello che lei aspettava e che le avrebbe risolto un po' di problemi, si è recata nella sede dell'Inps e si è data a fuoco. Io sono il fratello. A me il compito questa sera di moderare l'incontro con l'autore, con l'autore Gad Lerner che ha scelto di dedicare a Concetta questo libro perché è una storia che non riguarda Concetta ma è una storia che riguarda tantissimi altri. Ospiti insieme a Gad Lerner abbiamo Gabriele Vacis, dovrebbe raggiungerci, Laura ci raggiunge? No, chiedo scusa. Ok, dovrebbe poi raggiungerci comunque la sindaca di Torino, Chiara Pendino. Gabriele Vacis chi è? Perché è qua stasera. Gabriele Vacis è un regista teatrale, drammaturgo, docente, documentarista e sceneggiatore italiano. Attualmente è direttore della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino, è stato fondatore ed è riferimento per l'Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona, in particolare il progetto del Teatro Stabile di Torino. È un settimese come concetto, soprattutto. Ha visto crescere settimo, è cresciuto in settimo, ha visto crescere settimo, ha raccontato settimo in più di un'occasione. l'ha raccontata da settimese e dentro settimo l'ha vissuta. Quindi è una delle persone più adatte per condividere questa trasformazione che ha fotografato Gad Lerner. Chiara Pendino è la sindaca, non c'è altro da aggiungere. Gad Lerner è abbastanza noto, direi, come giornalista e come conduttore televisivo. Concetta vuole salutarvi e quindi io darei subito la parola a Concetta che ci racconta un po' come quello che è emerso in questi suoi sette mesi di vita ospedaliera. Grazie a tutti, buonasera, vi ringrazio per essere qui. Allora, ancora una volta vorrei ringraziare Anas Sabi e Roberto Mason. Senza il loro intervento, ora non sarei qui. La sindaca di Torino, Chiara Pendino, per essere stata la prima, con molta discrezione, a interessarsi alla mia situazione ed avere manifestato la sua vicinanza alla mia famiglia. Il regista Gabriele Vacis, che ha raccontato con il suo film Uno scampolo di paradiso, la settima in cui sono cresciuta e che cerca insieme allo sviluppo economico anche uno sviluppo culturale. L'attrice Laura Curino, che tanto ha fatto per il settimo torinese, anche se non è qui presente, noi la ringraziamo. E in ultimi, ma non ultimi, Gattelerner, che con il libro Concetta, una storia operaia, ha messo a fuoco una settima sfocata. Imprigionata tra il vecchio e il nuovo, in cerca del rinnovamento, che rimane però bloccata con i piedi nel passato, con un futuro la cui crescita è lenta, se non del tutto inesistente. Poi vorrei ringraziare la mia famiglia e Roberto, il mio fidanzato, che fin dal 27 giugno mi sono stati sempre vicini. Sette mesi e quattro giorni sono passati. Sette mesi e quattro giorni dopo il 27 giugno 2017. Eppure, ritrovandomi qui, dopo tanto tempo, penso ai cambiamenti che questa vicenda ha portato. A qualcuno può sembrare che non ci siano stati cambiamenti. A me personalmente, invece, ne ha portato tanti, sia sul piano fisico che sul piano morale. Sul piano fisico, a parte le cicatrici che si rimarcineranno nel tempo, ho riscoperto la vita e sto imparando a superare gli ostacoli che questa mi pone innanzi, giorno dopo giorno. Sul piano morale, ho riabbracciato l'amore per la mia famiglia, non che prima non ci fosse, però questa vicenda, nella sua crudeltà, ci ha uniti e reso più forti. Nelle difficoltà ad accettare, avvicinandoci di più. Altri cambiamenti? Beh sì, non avrei mai immaginato che la mia vicenda potesse unire così tante religioni. a cominciare da Roberto Mason, di fede cristiana, che con la sua maglietta è stato il primo a venire in mio soccorso, richiamando con il suo grido di aiuto l'attenzione di Anastabi, ragazzo italo-marocchino, di fede musulmana, che con l'estintore ha spento le fiamme che vorricimente bruciavano il mio corpo. Questa vicenda ha poi attirato l'attenzione di Gad Lerner, di fede ebraica, che con la sua delicatezza è entrato in punta di piedi nella storia della nostra famiglia, diventando così parte di essa. Grazie. Le comunità... Le comunità... Le comunità buddiste in Italia e Francia che con mio cognato hanno pregato per la mia guarigione. E tutte quelle persone che conoscendomi e non hanno comunque voluto manifestare la loro vicinanza attraverso la preghiera o l'invio di energia positiva. Quante religioni, quanta fede, quanta fede ho riscoperto in questi mesi. Per me questi sono i cambiamenti migliori, quelli di cui vado più fiera. Col tempo e grazie a Dio e alla fede tutto avrà una fine, tutto si sistemerà. Grazie a tutti voi che con me pregate e pregherete e lotterete spiritualmente per raggiungere quel cambiamento che serve per trasformare astio e rancore in amore e disponibilità verso il prossimo. quando si partecipa a un evento come questo ci si chiede sempre che cosa dire no? E Concetta ha chiesto non è lei abituata a parlare in pubblico ha chiesto che cosa devo dire che cosa devo dire di quello che ti senti di quello che viene da te e l'abbiamo poi scritto trascritto su un foglio di carta stampatello in modo che come potete capire riuscisse a gestire l'emozione di questo momento ok? Ma quelle sono le sue parole e perché ho precisato questo? Perché questa vicenda ognuno di noi la vive in un modo diverso la vista la vissuta in un modo diverso io adesso a cappello per introdurre la storia di di Concetta quindi quello che viene un po' narrato nel libro racconto come l'abbiamo vissuta noi come l'ho vissuta io l'abbiamo vissuta in due fasi sostanzialmente in più fasi la prima è stata quella in cui Concetta ha chiamato disperata piangendo mi hanno licenziata Concetta io sono un lavoratore autonomo non sono uno di quelli affermati che quindi gode di una certa serenità e sicurezza navigo a vista ogni giorno quando Concetta mi ha detto mi hanno licenziata mi sono dispiaciuto mi hanno detto cosa vuoi stai meglio di me avrai il tuo TFR avrai la tua NASPI la disoccupazione per due anni sei tranquilla qual è il problema questo era il mio punto di vista in quel momento dopo un po' Concetta dice non mi danno il TFR il datore di lavoro non vuole darmi il TFR Concetta vabbè ho capito farai l'avvertenza otterrai è un tuo diritto no? otterrai il TFR se non paga il datore ci interviene poi l'IMSS dov'è il problema e poi comunque hai la tua NASPI quella magari non arriva subito ma poi dopo 3-4 mesi come consuetudine arriverà il problema è che poi dopo 3-4 mesi Concetta la sua NASPI non la vedeva arrivare alle colleghe arrivata la NASPI intanto accumulava debiti intanto si sbilanciava intanto ci metteva la faccia ci metteva la faccia perché al padrone di casa che aspettava l'affitto diceva guarda quando arriva la NASPI quando mi danno la disoccupazione ti pago e l'altro diceva si si Concetta ti conosco non ti preoccupare però non c'era solo l'affitto da pagare c'erano altre spese allora magari qualcuno anche in famiglia le ha prestato dei soldi ma lei sapendo che non stavamo benissimo tutti quanti sapeva che quei soldi erano preziosi quindi era importante restituirli subito te li do appena mi danno la NASPI nel momento in cui le sue colleghe hanno ricevuto la NASPI le sue colleghe quelle che erano state licenziate con lei da questa birreria di Settuno Torinese quindi Chiara Elena adesso mi sfugge Mimma loro hanno ricevuto la NASPI Concetta no e sono state loro a dire Concetta vai a vedere Concetta era tranquilla perché questa cosa la stava gestendo il patronato c'era l'IMS in mezzo un ente importante insomma niente cerca di capire e dice signora ma lei è malata come sono malata sto benissimo no no lei è malata a computer ci risulta che lei è malata veramente io lo sto bene allora cerca di capire perché e capisce che per un documento al quale non siamo abituati a pensare se lavoriamo no perché noi siamo abituati che quando lavoriamo se stiamo male andiamo dal dottore il dottore ci fa una giustificazione che dura cinque giorni allo scadere del quinto giorno dobbiamo tornare a lavorare una certificazione non una giustificazione al sesto giorno dobbiamo tornare a lavorare siamo abili al lavoro per tutti per il datore di lavoro e per l'IMS ma non è così se veniamo licenziati mentre stiamo in malattia se veniamo licenziati mentre stiamo in malattia dobbiamo portare un documento un documento in cui si dichiara che siamo tornati abili al lavoro questo Concetta non lo sapeva perché i più non lo sanno perché esce fuori da ogni logica questa cosa e quindi Concetta si è trovata spiazzata un documento che poteva essere integrato corretto che il medico non ha voluto integrare non ha voluto correggere sta di fatto che il medico ha prodotto un documento e allo sportello le hanno detto la sua pratica è a posto può andare tranquilla le arriverà quello che le deve arrivare il problema è che le aspettava di più come abbiamo detto prima quindi quel giorno il 27 giugno telefona a NAS telefona a NAS e dice tua sorella si è data a fuoco sì ma no ma sta bene non ti preoccupare vabbè non ti preoccupare siccome questa sorella a volte è stata anche un po' un peso come tutte le sorelle più piccole arrivano cercano di impicciarsi dei fatti tuoi no lasciala lasciala là si arrancia perché devo correre io e poi sono stato convinto a correre ad andare a vedere quando l'ho vista per me stava bene perché mi ha parlato ci siamo scambiati due parole l'ho vista abbronzata come si è abbronzati dopo otto ore di sole no quando lo si prende bene ma non avevo pensato che lei quel sole lo aveva preso in pochissimi secondi è stato il dottore al pronto soccorso del San Giovanni Bosco che mi ha aperto gli occhi o meglio mi ha bloccato mi ha fatto cascare il mondo addosso mi ha detto sua sorella è grave io ero ancora un po' un po' superiore a questa cosa un po' infastidito scusi dottore definisca grave sua sorella è in pericolo di vita sua sorella ha ustioni di terzo grado sul 50% del corpo era stata la seconda valutazione la prima la dava a 70% ma era stata fatta in ambulanza d'urgenza al centro grandi ustionati di Torino e io ancora non avevo capito la portata di questa di questo evento per me era un fastidio era ancora un fastidio per me era ancora una stupidaggine commessa la concetta è stato poi uscire dall'ospedale e vedere tutti i giornalisti che chiedevano che mi ha aperto gli occhi finisco qui finisco qui perché sarebbe lunga rispetto alle emozioni che sono passate però è da lì che si è aperta una finestra che mi ha permesso di capire anche grazie alla lettura della prima bozza del libro scritto da Gad tra l'altro apro una parentesi vorrei ricordare che Gad Lerner non è solo entrato in punta di piedi nella nostra famiglia Gad Lerner ha ceduto i diritti d'autore di questo libro per le cure di concetta non l'ho detto per fare un complimento a Gad l'ho detto per invitarvi a comprare più libri a regalarne eccetera eccetera detto questo Gad Lerner ha scattato una fotografia di una società che cambia di una società che all'inizio sembrava assente che non ha colto come non ho colto io la portata del gesto di concetta qualcuno l'ha vista come una pazza come il gesto di una pazza non è mancata non è morta e questo ha determinato un sacco di cose quindi niente stasera siamo qua per sentire e per vedere fotografie diverse di questa società quindi io adesso chiederei a a Vacis a Gabriele che lui ha visto crescere settimo ha letto il libro di Gad come vive questa esperienza qual è la sua fotografia grazie concetta ha gentilmente ricordato il mio film uno scampolo di paradiso che racconta settimo torinese ma in realtà racconta un po' le periferie del nord le periferie di Torino come quelle di Milano come quelle di Genova come quelle delle grandi città del nord Italia quando mi hanno chiesto di fare quel film io mancavo da settimo nel senso che ci ho sempre abitato io sono nato a settimo nel libro si ricorda che Beppe è nato sul tavolo di una casa nel centro uguale siamo pochi ad essere nati in casa a settimo voglio dire perché a settimo non c'è un reparto maternità quindi la maggior parte delle persone non nasce mia figlia è nata a Moncalieri per esempio mentre noi siamo nati a settimo proprio abbiamo scritto sulla caratterità è nato a settimo torinese e siamo una rarità effettivamente però pur continuando ad abitarci ancora adesso il lavoro mi ha portato spesso via forse questa è anche una ragione per cui ho continuato ad abitarci perché ci abitavo ma non ci stavo spesso e quando mi hanno chiesto di fare il film io pensavo di fare un film sulle periferie come Talk Show World racconta le periferie perché quando le avevo lasciata quella periferia assomigliava molto al racconto che la televisione fa delle periferie cioè quando io ero piccolo andare in via Montello che era il quartiere vicino dove arrivavano gli immigrati eccetera per noi che abitavamo in centro era pericoloso non ci andavamo ma il cortile dove io abitavo con mio padre Bergamasco e mia madre Veneta di fronte aveva tutta una serie di era una casa di ringhiera tutta una serie di appartamenti formati da una sola camera affittati a giovani che lavoravano nelle fabbriche di Torino Settimo o di Settimo stessa Settimo non è mai stata una città dormitorio nella definizione urbanistica di città dormitorio le città dormitorio sono quelle in cui c'è più gente di notte che di giorno no a Settimo c'è sempre stata più gente di giorno perché le fabbriche erano tante e questa città nel 1958 quando è diventata città prima era un paese aveva 10.000 abitanti nel 1963 cioè 5 anni dopo aveva 25.000 abitanti quindi pensate oggi quando si dice invasione di cosa si parla quella era un'invasione la bisognava trovare da dormire alla gente che arrivava a Porta Nuova con il treno dal sud quella sera la sera dopo e allora noi siamo cresciuti in questa situazione qua c'è un episodio che ho raccontato anche e Gad ha riportato nel libro alle case Gescal quando appena sono state assegnate le case Gescal eravamo nel 1978 noi cominciavamo a fare il teatro e quindi cominciavamo volevamo fare il teatro nei quartieri popolari volevamo fare il teatro non al Carignano naturalmente era spregevolissimo pensare di fare il teatro nel Carignano e volevamo farlo nei quartieri popolari e abbiamo pensato di fare uno spettacolo alle case Gescal appena assegnate e ci siamo premuniti perché gli hanno detto insomma mettiamo il palco poi però tutte le luci tutte le cose ce le portiamo via perché è pericoloso metterle qui beh la mattina dopo siamo tornati si erano fottuti anche il palcoscenico proprio hanno fregato Giuseppe ha un alibi per quella no ma era ancora piccolo era ancora piccolo non è sospettato tra i sospettati quindi questo era l'ambiente questa era la situazione in cui in cui si cresceva per contro però in quello stesso periodo io che appunto avevo vent'anni in quel momento per esempio facevo il volontario al centro di igiene mentale in via verdi e c'era Enrico Pascal cioè un personaggio che era stato molto vicino a Basaglia e il coinvolgimento non riguardava soltanto me eravamo tanti ed eravamo gruppi di ragazzi che facevano i volontari in un centro di igiene mentale che era il primo centro di igiene mentale in Italia prima ancora del centro di igiene mentale c'era nella parrocchia del centro che io frequentavo poi Concetta e Beppe avrebbero frequentato la parrocchia di via Milano ma nella parrocchia del centro c'erano due preti Don Ferrero e Don Revelli uno è andato a fare il parroco a Mirafiori e è diventato ha avuto il suo attimo di celebrità nel 68 69 quando ha offerto la chiesa perché gli immigrati dormissero nella chiesa perché non si sapeva più dove metterli quindi c'era la chiesa che veniva utilizzata come dormitorio poi si toglieva il tutto e si faceva la messa si faceva la chiesa e l'altro Don Revelli che è mancato poco tempo fa qualche mese fa qualche pochi mesi fa era uno dei primi preti operai e noi siamo cresciuti in questo ambiente cioè che era un ambiente in cui c'era della gente che seminava questo ha prodotto per esempio vi faccio vi ho fatto solo dei piccoli esempi il fatto che nel 1984 Settimo si è dotata di un piano di ambiente culturale che era un piano particolareggiato del piano regolatore che non esisteva come nella legislazione nella procedura normale ci eravamo inventati questa faccenda del piano di ambiente culturale perché la cultura intuivamo era probabilmente la chiave che avrebbe permesso di riscattare questo territorio questa città era una possibilità di riscatto e questo ha fatto sì poi nel tempo che si arrivasse l'anno scorso a candidare Settimo Torinese come capitale della cultura e abbiamo perso per un punto nel senso che poi ha vinto Palermo cioè voglio dire avere perso contro Palermo va bene va bene e quando mi hanno chiesto di fare il film io pensavo di raccontare quella Settimo in cui si aveva paura di andare in via Montello in cui ti rubavano il palcoscenico addirittura se lo montavi alle case Gescal ma non era più quella era profondamente cambiata cioè dieci anni fa il ritratto per dirla con Beppe che veniva fuori di Settimo era di un posto imprevedibilmente vivibile con delle possibilità ed erano le possibilità che erano state seminate vent'anni trent'anni prima allora Gad è tornato dieci anni dopo perché il film è del 2008 quindi esattamente dieci anni fa e mi ha messo delle pulci nell'orecchio che avrei preferito non avere perché dieci anni dopo probabilmente il ritratto sarebbe diverso cioè adesso negli anni successivi e questo non riguarda parliamo di Settimo Torinese ma parliamo delle periferie in generale parliamo forse anche non soltanto delle periferie adesso che cos'è che si sta seminando cioè dove si vede la semina ecco questo è il il problema la questione cioè si sta seminando cioè allora c'erano personaggi c'erano situazioni che producevano avrebbero prodotto nel tempo degli esiti e là bisognava bisognava pensare bisognava avere delle visioni bisognava avere dei sogni bisognava proiettare lo sguardo lo sguardo lontano e allora io vorrei davvero ringraziare però Gad per questo libro perché perché è sempre utile che qualcuno ti faccia pensare a come si muovono a come cambiano le situazioni allora se c'è una cosa che posso alla fine della lettura del libro che vi consiglio davvero di leggere è viviamo in un mondo che forma una domanda sempre più complessa che ha bisogno cioè è sempre più complesso abbiamo una straordinaria complessità racconta in alcune pagine Gad le ragioni di tutti le ragioni anche naturalmente di Concetta ma anche dell'impiegato dell'Inps che si è trovato di fronte Concetta e che non ha dato le risposte che avrebbe dovuto dare le ragioni di chi quella mattina sono stati già ricordati hanno aiutato hanno fatto quello che si doveva fare e qui apro una piccola parentesi chi è che ha fatto quello che si doveva fare un operaio agricolo che potremmo tradurre in un contadino che è una roba bellissima non credo sia offensiva no? cioè il contrario è lì stai parlando di Roberto Maso Roberto Maso vieni vieni Roberto allora apriamo una parentesi per salutare la sindaca Chiara Pendino che è venuta a trovarci vuole già fare un intervento più tardi va bene grazie la persona che ha salvato la vita ecco qua adesso invece presentiamo Roberto Maso che quando lui si trovava un attimino prima e un attimino dopo nel senso che ha preceduto concetta in questo sportello dell'Inps e poi dopo appena ha visto il gesto ha cercato di fermarla benvenuto grazie buonasera a tutti scusate ma io non sono molto bravo a parlare così a braccio però come diceva il signor Vacis io ho solamente fatto la cosa che andava fatta se un'altra persona avesse fatto come me anziché fare tutti la cosa sbagliata e scappare mi avesse aiutato a fermare concetta non saremmo qui per tutta questa cosa lei non avrebbe sofferto così tanto e probabilmente la sua pratica sarebbe ancora com'è adesso purtroppo non è andata così c'ero solo io e non sono riuscito a fare quello che mi sono prefisso io non sono mi hanno chiamato eroe mi hanno chiamato Salvatore io sono solamente uno che era lì e ha fatto quello che andava fatto sono venuto questa sera per essere testimone di tutto quello che ho visto di sbagliato quel giorno in un ufficio pubblico è per ricordare un po' come i vecchietti che si vedono in questi giorni in televisione che sono stati nei campi di concentramento non giriamoci dall'altra parte raccontiamo queste cose perché è sempre uguale io il 15 di febbraio devo andare per la terza volta per lo stesso problema che avevo il 27 giugno che era un problema che risaliva ad agosto dell'anno precedente quindi non ci giriamo dall'altra parte perché tanto è sempre uguale la storia bisogna fare quello che è giusto fare l'impiegato che è lì non deve dire vieni di nuovo domani fai quello che puoi fare e basta non c'è nulla di più è la cosa più semplice è la cosa che a volte salva una vita grazie siamo tempo sì sì infatti no no figurati è meglio visto che l'hai citato gli abbiamo dato la parola giusto certo anche perché ha detto poi le cose che stavo dicendo cioè ha fatto quello che andava fatto cioè lui semplicemente ha reagito ad una azione C'è avuto una reazione ad un'azione. E l'altro che è intervenuto è un ragazzo nordafricano che interviene e anche lui fa quello che va fatto, cioè qualcosa di estremamente semplice ed essenziale che non è più scontato. Cioè la cosa preoccupante che mi mette sempre in ansia, ma anche io dirigo la scuola per giovani attori del teatro stabile di Torino, quello che mi mette davvero pensieri, azione e reazione, ci sono delle azioni, accadono delle cose e dovremmo avere certe reazioni. Fare la cosa giusta, ma semplicemente, semplicemente togliersi la maglietta, cercare di intervenire eccetera. E nel racconto di Gad nel libro invece succede che c'è un impiegato che arriva e ha una bottiglietta d'acqua e getta un po' d'acqua, che giustamente Gad dice come, forse addirittura nella testimonianza, come un aspersorio, come benedire. E poi arrivano i funzionari dell'Inps e i funzionari dell'Inps dicono la prima cosa che chiedono è ma lei aveva già avuto degli episodi di squilibrio? Cioè si traduce immediatamente tutto in protocollo e questa cosa ci sta davvero soffocando. Ma quello che è interessante è che nel libro ci sono anche le ragioni di chi segue il protocollo, perché alla fine quello che viene fuori è che davvero viviamo una domanda in un mondo che ci pone delle domande sempre più complicate, sempre più complesse, ma la cosa straordinaria è che le risposte che vengono date sono sempre più semplici, semplificanti e questo è assolutamente incredibile. Allora per raccontare questa cosa, per raccontare quello che è successo, per capire davvero quello che è successo, davvero ci vogliono libri, ci vogliono... Bisogna raccontare delle storie. Ci sono cose che non è che si nominano con una parola. Io per esempio ho dei grandi dubbi sulla possibilità che il confronto dialettico, che il dibattito in cui ognuno esprime opinioni, possa in qualche modo rappresentare e possa servire ad elaborare risposte complesse. Non serve più, serve soltanto a semplificare, serve soltanto a banalizzare, che è la cosa peggiore. Allora vi rubo soltanto ancora un momento perché c'è una frase nel libro che mi ha molto colpito ed è una cosa che dice concetta. Ad un certo punto entra, perché entra davvero nella questione, cioè è davvero la cosa ed è una cosa estremamente complessa. Gad gli chiede il dolore, quel momento. C'è anche una cautela di Gad quando parla con concetta, è una cautela, ma potrò parlarne, oltretutto si è dimenticato di chiedere a Beppe se è il caso di parlarne. Quindi è giusto, sono le giuste cautele che bisogna avere in un caso come questo. Però invece concetta entra nell'argomento senza nessun problema e quando si parla del dolore, lei dice questa cosa, dice il dolore, sì, in effetti ricordo che bruciava, faceva male, ma io ero determinata a fargliela vedere. Volevo bruciare, volevo bruciare, sì, volevo bruciare, ma non volevo morire, mi sentivo le fiamme addosso che non si fermavano, eccetera. A me queste cose qua, queste parole qua che sono, posso dire poesia, volevo bruciare ma non volevo morire, è una roba che non esiste. Nei protocolli dell'Inps, volevo bruciare ma non volevo morire, semplicemente è incontenibile, è una cosa incontenibile. E qui parliamo di una cosa incontenibile, una persona che si dà fuoco. E mi è venuto in mente un libro che avevo letto molti anni fa, da cui è stato tratto un film anche molto bello. Robert Redford ha fatto questo film, il protagonista è Brad Pitt ed è un personaggio che seguiamo nella giovinezza perché poi muore giovane questo qua. Tu lo capisci da subito, questo qua morire giovane, perché brucia, perché è un personaggio di quelli che bruciano. E infatti ad un certo punto in un dialogo con i suoi amici, quando ormai sta capendo che non gli rimane più tanto, ma forse non ha vent'anni questo qua, però sta bruciando e lui dice questa cosa bellissima, dice la mia candela brucia da tutte e due le parti, non durerà tutta la notte, ma questa sera ai miei nemici e ai miei amici dona una bellissima luce. Ecco, questa cosa qui è un libro di Norman MacLean in Mezzo scorre il fiume, si chiama. Il timore che ho è che questo libro mette bene in evidenza e che di fronte ad un personaggio anche, perché ormai c'è un libro su di lei, quindi ormai concetta oltre che una persona è anche un personaggio, è un personaggio complesso come concetta che brucia da tutte e due le parti e che avrebbe per questo la possibilità di illuminare sia i nemici che gli amici. E come spesso ne ha parlato, beh io ho l'impressione che adesso sia veramente difficile per tutti, per gli amici e per gli amici riuscire veramente a farsi illuminare da questo personaggio e da questo gesto. È una fotografia e da quando l'ho letto questo libro che poi ha scatenato a settimo anche un po' di polemiche, perché le fotografie quando le scatti non a tutti piacciono, no? È come quando si registra la voce, registro la mia voce, la mia voce è registrata e non mi piace. La fotografia che Gad Lerner ha scattato di me, della mia famiglia, dell'evoluzione, a me non è piaciuta, mi sta qua. Così come a molti settimesi non è piaciuta la fotografia che Gad Lerner ha scattato di settimo, dei protagonisti, dei datori di lavoro, così come non è piaciuta l'Inps, no? Però a me ha fatto più impressione che non sia piaciuta a me, perché dico come sta parlando di me, è un mio alleato Gad Lerner, no? Però ha fatto questa fotografia mettendo a fuoco delle cose che io che ho vissuto insieme a Concetta non avevo messo a fuoco e quindi questa cosa mi ha colpito nel leggere il libro. E quello che ancora oggi un po' mi colpisce è la domanda, Gad, ma perché l'hai fatto? Perché l'hai scritto? Perché l'hai scritto? Che cosa ti ha spinto veramente? Allora, dovrei darti una risposta sentimentale e invece siccome i sentimenti ci si sono mossi molto dentro anche questa sera, anche grazie a quello che ci ha detto Concetta prima e alla relazione che avete intuito si è instaurata tra di noi in questi mesi, dal luglio scorso fondamentalmente, con Giuseppe e poi da agosto quando si è risvegliata dal coma farmacologico e quando i medici hanno ritenuto che potesse incontrare non soltanto gli stessi familiari in questo posto straordinario di cui Torino deve andare orgoglioso che è il cento grandi istionati del CTO. Credo che questo dobbiamo dirlo. Hanno fatto veramente un lavoro straordinario. Ma appunto non voglio proseguire sull'onda delle emozioni e quindi sarò noiosissimo perché vorrei cominciare, ed è la risposta anche alla tua domanda, con delle cifre nude e crude e fredde che ho trovato sui giornali di oggi, ma non in prima pagina, tra filetti in pagina economica di un rapporto che ogni anno l'ISTAT, l'Istituto Nazionale di Statistica, quindi con un crisma di ufficialità, fa riguardo alle retribuzioni e ai contratti collettivi di lavoro in Italia. Ebbene, in questo trafiletto, ma davvero piccolino, nella pagina economica del Corriere della Sera di oggi, l'ISTAT comunicava che la retribuzione oraria media nel 2016 è cresciuta la metà dell'inflazione, pensate che no, è cresciuta dello 0,6% la paga oraria media dei lavoratori italiani, mentre l'inflazione è stata 1,2%, ma era la seconda volta consecutiva, il secondo anno consecutivo che l'aumento del reddito da lavoro era in realtà più basso dell'inflazione, cioè si era andato indietro e precisava l'ISTAT che è la prima volta che un fatto del genere si registra da quando loro hanno cominciato a fare le rilevazioni, cioè da 35 anni. Poco oltre, sempre l'ISTAT raccontava che i contratti collettivi in vigore oggi riguardano circa 7 milioni e 600 mila lavoratori dipendenti in Italia, il 58% del totale, ma che ci sono 35 contratti nazionali di categoria in attesa di rinnovo, riguardano più di 5 milioni e 300 mila lavoratori e l'attesa media per il rinnovo del contratto scaduto è di 71 mesi e mezzo, cioè di circa 6 anni. Sono stato, credo, abbastanza noioso, vi aggiungo di rincaro, stiamo vivendo, e gli economisti ci dicono che è la prima volta, una ripresa economica, meno male, l'aumento dei punti di PIL, ma è la prima volta che la crescita economica coincide con una decrescita dei redditi di lavoro. Di solito, gli economisti, anche per confortarci e incoraggiare, dicevano che arriverà la ripresa e quando arriva la ripresa ci sarà un miglioramento. Aggiungo che nel settore nel quale era impiegata Concetta, che ufficialmente ha circa mezzo milione di dipendenti in Italia, il settore dei servizi di pulizie, servizi integrati e multiservizi, così si chiama noiosamente e pomposamente, in realtà sono un milione, il doppio di quelli ufficiali, quasi tutti a part time, il contratto di lavoro non si rinnova da cinque anni, l'ultimo aumento, quindi c'è stato nell'aprile 2013, e attualmente al secondo livello, credo che anche tu fossi inquadrata al secondo livello, se non sbaglio, la paga contrattuale oraria lorda è di 7,16 euro. Naturalmente accompagnati a una possibilità che viene assai praticata di ridurre gli orari e ridurre in tal modo automaticamente anche le paghe, le retribuzioni, esattamente come è avvenuto nella sua birreria, dove a un certo punto i titolari hanno avuto la splendida idea, prima di esternalizzare, cioè di dire ai loro 60, a un certo punto erano addirittura 100 dipendenti, fate una cooperativa, noi vi licenziamo, voi fate una cooperativa, poi facciamo una bella assemblea della nuova cooperativa, chi eleggiamo presidente? La moglie del titolare, e a quel punto abbassiamo gli orari, riduciamo gli orari, tagliamo perché non ce lo possiamo permettere, abbiamo agevolazioni fiscali e quant'altro. Per cui dietro alla storia che Giuseppe ha raccontato così bene, ci sta un dato iniziale, negli otto anni in cui ha lavorato per questa birreria, i cui titolari erano suoi compagni della parrocchia, suonavano e cantavano insieme nel coro, andavano a messa insieme la domenica, si davano del tu, in questi otto anni prima che considerassero che conveniva ricorrere a un appasto esterno per risparmiare 20.000 euro all'anno licenziando quattro di queste lavoratrici senza dare loro la liquidazione, perché hanno dichiarato che non c'era, per tutti questi otto anni lei ha preso poco più di 700 euro al mese. Tu hai detto che questo è un libro che pone questioni complesse, la questione più complessa di tutte ed è così complessa che i partiti si guardano bene dal trattarla in questa campagna elettorale che pure è piena di promesse roboanti e improbabili, ma su questo comprensibilmente, io li rispetto per questo, stanno alla larga perché è una questione troppo difficile, perché il lavoro vale così poco e in aggiunta, perché il lavoro è pagato sempre di meno, perché il papà di Giuseppe Concetta, Maria Teresa che qui, Massimiliano che oggi non c'è, facendo l'operaio Fiat non sarebbe bastato e poi facendo il doppio lavoro alla sera in casa e poi facendo il triplo lavoro e facendosi aiutare la figlia eccetera, però nel corso di una vita è riuscito a riscattare la casa Gescal e a diventare proprietario di casa, mentre invece sua figlia con 700 euro al mese non potrà mai arrivare a tutto questo. Questa è la questione che abbiamo davanti sul nostro futuro, i nuovi posti di lavoro sono pagati 500, 600, 700, quasi sempre sotto i 1000 euro al mese, oltre che avere condizioni normative e di temporaneità che ben sappiamo. E credo che questo scateni quella concorrenza spietata tra le persone che ne hanno bisogno che è anche la causa della solitudine, perché manca invece in questo libro un elemento essenziale e mi autodenuncio mentre sono riuscito a parlare e a lungo e approfonditamente con i titolari della birreria che l'hanno licenziata, Stefano Papini e Onda Cervo, lei peraltro figlia di sindacalisti, di persone che hanno fatto gli operai e che in tema di diritti avrebbero dovuto avere delle sensibilità, ma che come un'immedia impresa perché è un'impresa che ha avuto anche successo a due filiali a Moncalieri a Settimo eccetera come dire si è affidata alla fantasia creativa del commercialista che gli ha detto ma perché se potete fare una cooperativa spuria come si dice in gerga se la legge lo consente perché non tenere quelle agevolazioni persone credo che Vacis possa confermarcelo non solo stimate e rispettate a Settimo Torinese ma considerate parte illuminata della città bellissima come luogo di ritrovo questa birreria per i giovani e non solo per i giovani c'è la società l'intorno facevano parte di quel fervore culturale di quella rinascita culturale di cui parlava e quindi grande indulgenza nei loro confronti e viceversa quando la disperazione di concetta arriva a quel gesto di protesta pubblica perché darsi fuoco in un luogo pubblico non è tentare il suicidio è un'altra cosa come lei ci ha ben spiegato non scatta alcun meccanismo non diciamo di identificazione ma neppure di solidarietà ora tu mi chiedevi perché ho scritto questo libro perché 30 anni fa qui a Torino ne ho scritto un altro in un momento molto difficile per la classe operaia della Fiat perché era dopo una sconfitta dopo che quasi 28.000 lavoratori furono allontanati dagli stabilimenti ma era un'altra comunità non c'era questo senso di voglio dire di separazione totale fra il sociale e la politica per cui può accadere che di fronte a un gesto di questa natura nessuno ritiene che sia centrale intanto perché sono tantissime le persone che si trovano nella stessa condizione in cui si è trovata con CETAM e Roberto Mazzone è testimone le sale d'aspetto chiamiamole così degli uffici territoriali dell'Inps ogni mattina ne accolgono a centinaia di persone che hanno richieste di questa natura ma sono tante unità separate frantumate e per me scrivere questo libro all'inizio voleva essere un atto politico un atto militante poi siamo diventati amici poi è nato un sentimento e sono convinto che non possiamo dare una lettura soltanto politica della protesta di concetta anche se mi fa un enorme piacere l'impegno che con fatica lei continua ad assumersi di testimonianza di voler stare in prima fila come ha detto ancora quando non era in grado di parlare facendo dei segni su quella specie di tavoletta che vi siete inventati con le lettere e lei ha subito detto che se facevamo questo lavoro insieme io e te lei ci sarebbe stata in prima fila ma allora i problemi da affrontare oltre che di relazione con gli uffici pubblici con l'IMS eccetera sono qualche cosa e l'ultima cosa che voglio dirvi però mi ha fatto impressione la settimana scorsa io sono stato invitato a un convegno del centro nazionale di prevenzione e difesa sociale che non sapevo che cosa fosse è un'associazione accademica che riunisce economisti e giuristi fondata da Adolfo Beria d'Argentina insomma con grande prestigio accademico e il tema del 34esimo convegno che questi signori tenevano era impresa mercato e lavoro schiavistico alla ricerca di regole efficaci di questo parlavano perché questo è diventato un problema che non riguarda soltanto le nostre imprese che delocalizzano e magari all'estero ricorrono a lavoro minorile o a lavoro super sfruttato ma il forset labor come viene chiamato ma in gergo è qualche cosa che anche in Italia avviene e allora pochi giorni fa mi è capitato anche di andare a presentare questo libro per una volta senza Giuseppe di solito ormai siamo volevo dire Staglio e Olio è scortese nei confronti della tua stazza ma sono andato a Modena perché lì c'è stata un'avvertenza molto dura nel cosiddetto distretto delle carni suine a Castelnuovo un paese a 12 km da Modena dove alla Castelfrigo dei lavoratori di cooperative finte come finta era la cooperativa della Beffet e aggiungo una cosa in questo guardando la sindaca e pensando al messaggio di disintermediazione che il Movimento 5 Stelle ha lanciato sulle relazioni sindacali accidentaccio se dentro alla Beffet ci fossero state delle rappresentanze sindacali non credo che sarebbe passata la finta cooperativa presieduta dalla moglie del padrone io credo che i sindacati siano preziosi ma quello che mi ha impressionato lì a Modena è che organizzando la protesta che aveva per titolo proprio mai più schiavi cioè questo lavoro schiavistico il modo in cui venivano chiamati a tagliare la carne suine questi lavoratori per lo più stranieri del Ghana cinesi e albanesi il sindacalista che ha organizzato lo sciopero della fame ed era la prima volta che in Italia il sindacato ricorreva allo strumento del proprio corpo del corpo fisico del lavoratore offendere il proprio corpo nel caso di Concetta c'è stata una vera e propria autoimmolazione ed è molto più diffuso di quello che non si creda episodi come questi pubblici lì comunque diciamo non mi resta che usare il mio corpo e fare violenza su me stesso per farmi ascoltare ma questi sindacalisti che per la prima volta hanno organizzato uno sciopero della fame anziché uno sciopero semplice mi hanno detto abbiamo fatto lo sciopero della fame perché tra questi lavoratori in particolare tra quelli stranieri ma non solo tanti volevano fare delle stupidaggini tanti erano pronti a fare dei gesti autolesionistici o di altra natura che per fortuna abbiamo scongiurato rivolgendosi sul proprio corpo e contro il proprio corpo è la frase di Concetta che tu hai citato prima e allora io penso che la vicenda di Concetta a Torino e nella cintura operaia torinese debba parlare che dobbiamo chiederci perché tante concette e tanti concetti rimangano così soli in queste comunità operaie e che quindi insomma possiate e dobbiate approfittare di ogni scadenza qui ve lo preannuncio siccome Concetta compie gli anni l'otto marzo io credo che sarà bello che a settimo torinese questo suo compleanno che coincide con la festa della donna e la donna è l'anello più debole della catena che abbiamo raccontato possa essere un momento di festa e di riflessione comune grazie io volevo ancora aggiungere una cosa nel senso che quello che più volte ho detto è che questo libro è una fotografia le fotografie quando vengono scattate sono impietose siamo poi noi che le guardiamo e ne mettiamo a fuoco alcuni aspetti e Gad si sofferma forse di più sull'aspetto che riguarda il mondo del lavoro che è quello che ci coinvolge forse di più tutti quanti lo sentiamo di più io più volte ci tengo a sottolineare Concetta ma comunque questo emerge nel libro Concetta si è data fuoco nella sede del NIMS non nella sede del Befet perché se avesse avuto un problema con il datore di lavoro che pure c'è come problema ma se lei avesse sentito quello il suo problema si sarebbe data fuoco nella sede del Befet si è data fuoco nella sede del NIMS perché sottolineo questo perché nel libro si vede più volte emergono le scelte le scelte che fanno i datori di lavoro la più importante forse è la scelta di Concetta o la più evidente non la più importante la più evidente è la scelta di Concetta così come è evidente e importante la scelta di Roberto e la scelta di Anas la scelta dei datori di lavoro la scelta dell'impiegato INPS vorrei parlare allora no Concetta ha detto allora fatemi parlare col direttore il direttore non è disponibile la scelta del direttore ecco allora non so quanti di voi in questa sala siano dipendenti pubblici o altro da me dal mio punto di vista di cittadino di utente di diversi servizi quello che vedo che abbiamo perso sono dei valori di riferimento che quindi ci portano a definire cosa è giusto cosa non è giusto come retribuzione ma anche dei valori di riferimento in termini di servizio critichiamo tanto i vari politici a ragion veduta spesso per alcuni per altri no perché sono attaccati alle loro seggioline ma l'impiegato pubblico è attaccato alla sua alla sua seggiolina ma non perché lo vuole lui perché tanto è tranquillo è sicuro ok e forse in questo non dico che sia sbagliato ma non dico neanche che sia giusto però dimentica troppo spesso si dimentica il senso di servizio che abbiamo sposato che si è sposato nell'accettare un posto come impiegato pubblico ecco per me è importante questo aspetto perché la società la società non la fa il politico di turno non la fa il politico di turno non la fa per n motivi e non voglio entrare nel merito mi limito al livello più basso la facciamo noi quando come Roberto Mason facciamo una scelta piuttosto che un'altra la facciamo noi quando svolgendo il nostro lavoro scegliamo di farlo bene o scegliamo di farlo male o scegliamo di arrivare a fine giornata perché poi domani sarà un altro giorno oppure quando davanti a noi vediamo una pratica anziché una persona ecco io chiuderei qua se no trasformo chiuderei il mio intervento per chiedere a Chiara Pendino la sindaca di Torino di darci un suo contributo grazie intanto buonasera a tutti e a tutte scusatemi per il ritardo ma stavamo chiudendo una questione e ho ritardato di qualche minuto e mi sono persa qualche intervento intanto ci tengo a ringraziare Gad perché ha voluto scrivere riscrivere questa storia perché evidentemente è una storia che tocca la vita di ciascuno di noi nei propri ruoli concordo con quanto dicevi tu adesso ciascuno di noi fa politica nella propria vita la fa facendo delle scelte personali la fa decidendo di vivere uno studio di vita con altre persone la fa nelle banali scelte che possono sembrare banali ma in realtà tocca la vita degli altri e questa storia riraccontata grazie anche al coraggio di concetta che continua a essere qui e non è scontato e credo che nessuno di noi qui io in primis possa capire che cosa hai provato prima in quel momento cosa stai provando adesso credo che sarebbe falso dire che capiamo i tuoi sentimenti però credo che la responsabilità che noi abbiamo e sarà molto breve perché in realtà volevo solo portare un saluto e la vicinanza della città a entrambi ovviamente è effettivamente ricostruire questo senso di comunità perché siamo in una situazione in un periodo economico sociale dove anche a causa della crisi che è evidente se ci sono vero dei segnali di ripresa speriamo che sia una ripresa strutturale però tocca ha toccato la vita di ciascuno di noi chi più e chi meno in questo contesto io credo che sia anche una questione umana mi capita molto spesso di sabato mattina di ricevere i cittadini e sentire storie che per un rappresentante di un'istituzione sono un colpo al cuore perché ti chiedi come è possibile che io non riesca a dare delle risposte perché noi non riusciamo a dare spesso risposte di cui c'è bisogno in questo contesto le persone le famiglie tendono a chiudersi ci si tende a chiudere perché magari non si riesce a rispondere ai propri bisogni primari ci si tende a chiudere perché ci si tende credo umanamente a essere egoisti rispetto ai propri bisogni e quindi quando la crisi è forte economica sociale e ci si tende a chiudere il senso di comunità purtroppo tende a perdersi allora io credo che la sfida che abbiamo noi istituzioni ciascuno che è qui seduto e come società sta nel non far crescere questi muri che stanno crescendo purtroppo ma nel ricostruire questo senso di comunità che parte dalla solidarietà gesti che sono raccontati come quello che è stato raccontato poco fa è un gesto importante di solidarietà che è vero che qualcuno può etichettare come eroismo e in parte lo è in realtà io mi sento di dire però è in quel simbolo in quell'azione che noi riprendiamo riportiamo al centro il tema della solidarietà e di rinunciare anche a qualcosa di proprio per aiutare magari qualcun altro sembra banale ma non lo è ed è molto più difficile quando c'è la crisi che tocca la vita di ciascuno di noi e da istituzione devo dire che viviamo un paradosso Gad parlava del tema degli stipendi in generale il tema del lavoro noi siamo in una situazione in cui le povertà sono cambiate cioè noi abbiamo i poveri da lavoro sostanzialmente che hanno una nuova tipologia di povertà che sono persone che hanno uno stipendio basso che non hanno potere d'acquisto tale da anche soddisfare i bisogni primari e oggettivamente non c'è un sistema oggi di welfare da livello locale regionale e nazionale che è pronto a rispondere a queste nuove povertà e non c'è neanche un sistema di aiuto cioè noi oggi abbiamo persone che si trovano in povertà dall'oggi al domani perché queste nuove povertà sono questa fascia grigia per cui ti trovi magari in povertà assoluta per un fatto straordinario come il dover fare un intervento non so dal dentista o una bolletta particolare e queste persone non sono pronte a vivere la situazione di povertà e quindi noi rischiamo di non essere loro vicini e creare delle difficoltà enormi evidentemente che poi toccano le viti di ciascuno di noi e il paradosso è che siamo in una situazione in cui noi ente pubblico mi assumo la responsabilità di quello che sto per dire noi ente pubblico siamo datori di poveri di lavoro cioè gli enti pubblici oggi a causa di spending review e tagli sono soggetti che spesso loro stessi in qualche modo generano poveri di lavoro perché hanno stipendi bassi e questo è il grande tema che credo il paese debba affrontare cioè da un lato un sistema di welfare che sia in grado di accogliere e accompagnare e dare risposta strutturale a nuove povertà e dal lato evidentemente altro non essere noi stessi enti pubblici datori di poveri di lavoro è una sfida complicata io non ho la ricetta però è un tema che oggettivamente ci riguarda e ci riguarderà e ci riguarderà per anni quindi devo dire che chiudo raccogliendo peraltro l'invito che è stato fatto sull'8 marzo io credo che sia una bellissima idea riprendere l'8 marzo per tenere viva questa storia perché questa storia deve rimanere viva perché deve ricordare a tutti noi chi più e chi meno sicuramente chi rappresenta le istituzioni ne ha di più quali sono le responsabilità che abbiamo rispetto a quelle che sono oggi purtroppo delle emergenze che sono diventate strutturali cioè non possiamo più parlare di emergenza lavoro è oggettivamente strutturale e dobbiamo avere la capacità da un lato di intervenire sulla nuova povertà e dall'altro di creare evidentemente un sistema per cui i datori di lavoro almeno quelli pubblici oltre a quelli privati ma io parto dai pubblici di cui mi sento in parte responsabile non siano datori di lavoro di poveri di lavoro e questo credo sia veramente un grande tema quindi in realtà non voglio prendere altro spazio voglio insomma esprimere la vicinanza della comunità che rappresento pro tempore rispetto insomma alle difficoltà che avete vissuto che continuate a vivere e ovviamente per quanto possibile cercheremo di essere al vostro fianco che è il piccolo pezzetto che possiamo fare per non farvi sentire soli quindi grazie di cuore grazie grazie io non l'ho condiviso prima lo condivido stasera posso salutare il prefetto di Torino che è qui con noi e che ringrazio molto di essere venuto perché è anche un vecchio amico grazie niente io volevo solo ricordare una cosa adesso magari la sindaca mi picchierà perché è quello che sto dicendo la prima telefonata che io ho ricevuto l'ho ricevuta da Luca Pasquaretta che è il portavoce che mi ha detto fateci sapere fateci sapere diteci se avete piacere di una nostra visita o meglio era chiara la sindaca chiara pendino che chiedeva se avevamo piacere di una visita avremmo avuto sì piacere ma la risposta mia in quel momento era intanto era il 27 proprio il giorno in cui è accaduto stavo rientrando a casa ho detto con tutto il cuore perché ci farebbe piacere ma i miei ancora non sanno cosa è successo veramente concetta e in coma farmacologico non è opportuno in questo momento ci vedremo poi in un altro momento però è stata la prima persona che ci ha chiesto lo sottolineo perché perché a suo tempo io non ci avevo fatto caso e Gad Lerner aveva evidenziato come altre amministrazioni a settimo si erano dimenticate non dimenticate in realtà non avevano anche loro avevano sottovalutato il peso di questa cosa poi è arrivata la Laura Boldrini che ha chiamato e abbiamo ha avuto opportunità di parlare con i miei genitori che oramai erano stati preparati hanno avevano diciamo così lei ha portato il suo conforto comunque avevano già avuto modo di prepararsi alla situazione grazie a tutti